ciao a tutti benvenuti e bentornati su begagame oggi torno al nostro appuntamento con le guide di ace of empires 4 e vedremo come cacciare e esplorare con i russiani è un argomento assolutamente essenziale per imparare a masterare questa civiltà non è facile perché tendenzialmente dovrete giocare con tre scout o almeno due per cui se avete qualche problema con l'esplorazione cosa naturale pensavo di fare a breve una guida su come step by step migliorare nello scouting anche per principianti anche perché è una cosa abbastanza fresca nella mia memoria non venendo da altri rts age of empires 4 il mio primo so benissimo com'è avere difficoltà nell'esplorare e anch'io ho aggiunto un pochino alla volta partendo con uno poi aggiunto il secondo ho usato le waypoint poi ho tolto le waypoint vedremo un po' diciamo come potete approcciarvi a migliorare con lo scouting prima di iniziare se volete supportarci potete iscrivervi al canale attivare la campanella per sapere con le notifiche non appena esce il video bene cominciamo iniziamo col dire che i russiani hanno tre livelli di taglie il punteggio è determinato dalla quantità di oro che raccogliete uccidendo animali selvatici per cui a livello 100 sbloccate il livello 1 livello 2 con 250 e livello 3 con 500 ricevete 10 di oro per ogni cervo che uccidete 25 per ogni lupo 75 per ogni cinghiale in una mappa standard ci sono quattro branchi di cervi da sette per un totale di 28 cervi due cinghiali uno testa per ogni giocatore e solitamente dovrebbero sponare tre lupi per ogni giocatore più uno al centro quindi sette lupi ora questo vale solo per mappe in questa diciamo rotazione di mappe come arabiari dei lipani quelle diciamo più standard più comuni tutte le altre presentano varie particolarità le mappe d'acqua ci interessano relativamente poco perché giocherete con un singolo scout il vostro focus è mettere abitanti alla legna e fare porto per cui non farete capanno non farete altri scout dal tc basta uno scout e il vostro unico scopo è raccogliere quei 100 di oro che vi servono per andare ad età feudale senza mettere abitanti del villaggio a loro e tutto quello che ricevete in più di questo uccidendo cervi o lupi o quello che è consideratelo un bonus ora detto questo la mappa migliore in questa pool per la taglia è visuale alta visuale alta è ottima per i lusiani perché ci sono quattro lupi in più e questo vi aiuta molto con le taglie frateria è una mappa che non consigliamo per i lusiani perché non c'è legna però è abbastanza buona dal punto di vista della taglia perché avete il cinghiale molto vicino alla base c'è un numero normale di lupi unica cosa è che invece che esserci gruppi da sette di cervi ci sono dei branchi più piccoli da tre quindi manca qualche cervo c'è qualche cervo in meno nascondiglio stessa cosa anche qui la particolarità è che ci sono gruppi di cervi da tre in compenso uno vi spona direttamente in base e ce ne sono cinque per giocatore quindi ci sono 30 cervi invece che 28 un po meno buono il fatto che ci siano meno lupi quindi ci sono soltanto due lupi per giocatore quello conteso centrale probabilmente non spona perché c'è tutta legna in mezzo alla mappa il cinghiale è anche abbastanza lontano quindi il motivo per cui i lusiani sono molto forti su questa mappa è principalmente i capanni di caccia non le taglie french pass passo francese mi rifiuto di giocarla quindi non ne parleremo radura di montagna è un altro caso particolare dove vi consiglio di fare un singolo scout a meno che non sia un mirror di rusiani questo perché non ci sono taglie c'è soltanto un cinghiale in mezzo alla mappa non ci sono lupi e anche se avete un branco di cervi da sette in base poi in tutto il resto della mappa ce n'è soltanto un altro da tre per ogni giocatore e ovviamente l'altro branco da sette si espone in base all'avversario quindi a meno che proprio non sia addormentato è impossibile da uccidere rimangono molto forti potenzialmente i lusiani su questa mappa per spammare capanni di caccia ovunque e prendere il centro mappa col cremlino bene detto questo che era la teoria andiamo a vedere in game per cui eccoci qua nella nostra partita non parlerò della build order perché la potete trovare diciamo in uno dei precedenti video ci concentreremo su cosa fare con gli scout il primo scout dovrebbe fare un giro abbastanza stretto attorno alla base per portare a casa le pecore vicine ed evitare diciamo che rimaniate senza col primo scout diciamo prodotto dal capanno di caccia invece potete fare una aggressione al territorio dell'avversario quindi andare a cercare di portare via subito lupi o cervi dell'avversario visto che dovreste avere qualche scout in più anche se magari loro partiranno di secondo scout se col primo scout che fa un giro attorno alla base ovviamente incontrate lupi o cervi potete fermarvi ad uccidere tanto per un po di tempo diciamo quasi due minuti avete abbastanza pecore in base se avete lasciato le prime due o le prime tre che trovate attorno al pc con il secondo scout sponato dal capanno teoricamente vi conviene fare il giro stretto attorno all'altro lato della base che non avete toccato con il primo scout una volta che il primo scout quello originale ha fatto il giro attorno alla base e ha portato qualche pecora o ha fatto un po di taglia lo potete mandare ad aggredire il lato dell'avversario dalla parte opposta in cui avete mandato il primo scout uscito dal capanno di caccia come sempre come avevo detto in un precedente video potete fare un a move ovvero fare un movimento d'attacco attorno alla base per aggrare senza il bisogno di farlo manualmente qualsiasi lupo incontriate sulla mappa per quanto riguarda i pacchi di cervi è stata fissata questa cosa potete semplicemente fare uno shift click per ucciderli uno per uno senza doverlo fare manualmente c'era una sorta di bug prima in cui lo scout faceva sempre tre attacchi invece che due per uccidere i cervi ma questa cosa è stata sistemata quindi diciamo che è un di risparmio un po di attenzione e un po di apm e obiettivo standard per avere le taglie è raggiungere almeno un valore di 190 e 200 questo perché perché è assolutamente essenziale che uccidiate i vostri due branchi di cervi in base i due branchi di cervi degli avversari solitamente dovrebbero venire uccisi da un avversario attento a volte riuscite a rubarne uno a seconda di come spawnano e un po anche di quanto è bravo lui della fortuna che avete nello spawn e a questo punto con il vostro scout in più perché siete in buona sostanza tre scout contro due nella maggior parte dei casi l'obiettivo è di uccidere quanti più lupi possibile per arrivare a almeno un 190 210 di taglia lo scopo finale è arrivare almeno al livello 2 ovvero 250 uccidendo il cinghiale più vicino che vi dà 75 arrivare al livello 3 di taglia che è 500 in una 1v1 soltanto con quello che è presente sulla mappa è irrealistico anzi a volte addirittura proprio impossibile per le quantità di animali presenti sulle varie mappe però ci potete arrivare con il luogo storico della terza età che è la casa alta del commercio bene una volta che avete esplorato tutta la mappa idealmente dovrebbe succedere attorno ai 3 minuti e 30 cosa andate a fare beh vi iniziate a preparare un po per il passaggio all'età feudale quindi banalmente banalmente in questo punto della partita dovreste avere gradualmente qualche scout che torna in base diciamo di quelli che hanno fatto il giro attorno alla base avversaria per riportare indietro le pecore uno scout che si inizia a dirigere verso il bor perché di lì a poco farete il passaggio all'età feudale e quindi vorrete andare a prendere il bor uno scout dovrebbe rimanere sempre attorno alla base dell'avversario per vedere un po cosa sta facendo se sta prendendo pietra per fare un secondo centro cittadino se sta salendo di era con molti abitanti nel luogo storico e vi vuole aggredire quindi lo split dovrebbe essere uno scout che tiene sempre un occhio all'avversario uno che gradualmente riporta indietro le pecore che ha raccolto dopo li potete intercambiare e uno che si appropinqua al bor idealmente utilizzate lo scout per tankare il bor mentre gli otto abitanti vanno in mischia e lo uccidono conviene tenere uno scout vicino al bor già un po' prima che ci andate con gli abitanti perché un avversario sveglio sa perfettamente che i rusiani amano prendere il cinghiale e indubbiamente terrà d'occhio la situazione bene ragazzi anche oggi questa guida ce la siamo portata a casa noi ci vediamo venerdì con un'altra guida di Age of Empires e fino ad allora good luck e fun e ci vediamo presto grazie a tutti